Anni fa ero piccolissima, perché mia madre mi portava sempre in giro a fare provini, stagio, spesso erano qui, ma all'epoca... All'epoca? All'epoca era... Cioè, è giovanissima. No, ma ero 14-15 anni. Quindi a me, proprio, cioè, a me fa ridere quando parli, oggi che ho sentito un paio di volte questa cosa, è giovanissima, io credo che tu abbia vissuto già quattro vite, forse anche cinque. No, perché in realtà, già quando avevo 16-17 anni, mi sentivo molto adulta, capito? E quindi... Parlavamo di case, no, perché sai, a 18 anni, quando ho preso la prima casa, io 18 anni, cioè io a 18 anni ero appena uscita dal periodo Barbie, e lei aveva già, tutto, già viveva da sola, emancipata. Infatti siamo qui e festeggiamo i due primi dieci anni di carriera. Che effetto fa? Eh, sono passati dieci anni. Ah, sì? Beh, nel tuo vissuto storico, forse tre, mi pare. Tre, sì? No, sono molto felice. In realtà questi anni sono passati velocemente, perché quando cerchi di raggiungere il tuo obiettivo, il tuo sogno, il tempo passa velocemente, perché tu raggiungi quel sogno, però soprattutto come sono fatta io, cerco già, penso già a quello che verrà, no, a quello che vorrei fare poi successivamente, perché non è un bene, perché non riesci poi fondamentalmente a goderti quello che stai vivendo in quel momento. io no, già penso a quello che dovrò fare, quindi su questo sto lavorando. Però ecco, sono felice di questi dieci anni e spero che ce ne saranno altri dieci, 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 dieci. Ma quando, come te, insomma, si cresce...